adesso vi faccio vedere una cosa questo video l'avrei voluto fare più in là ma nella maturazione della vasca ho notato questo vediamo se come vedete uno stelo di cabomba che ho lasciato in superficie è uscito fuori dall'acqua e ha fatto questo splendido fiore e ci sono altri germogli quindi presumo che 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 a breve ce ne saranno altri di fiori e niente questa cosa mi ha particolarmente emozionato perché sono sincero è la prima volta che mi capita una cosa simile perché di solito queste piante a stelo le ho sempre piantate sul fondo mentre ora perché siccome devo fare un po di spostamenti ho lasciato tutto questo casino come vedete adesso questi germogli e niente da questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo video